Ciao ragazzi e ben ritrovati da Tenone Informatico. In questo nuovo video vediamo come migrare i dati personali da un telefono Android a un telefono iPhone. Quindi avete deciso di passare da un sistema operativo Android a un sistema operativo iOS e per fare ciò utilizzeremo la rete Wi-Fi. È indispensabile che i telefoni siano collegati con la stessa rete Wi-Fi per fare la migrazione. Innanzitutto dal vostro dispositivo Android andiamo nel Play Store e scarichiamo l'applicazione che si chiama MovieOS. È un'app che permette di migrare i dati personali dal telefono Android direttamente al telefono iPhone, quindi è molto comodo. Poi dal vostro telefono iPhone la cosa importante è configurarlo e arrivare ad inserire la rete Wi-Fi. Una volta fatto ci viene chiesto come migrare i nostri dati personali e noi andremo a scegliere la voce che dice Migra i dati da Android. Apriamo poi l'applicazione MovieOS dal nostro dispositivo Android. Confermiamo su Continua, accettiamo le condizioni e poi dal telefono iPhone andiamo su Migra i dati da Android. Continua. Ci viene fornito un numero dal dispositivo iPhone. Andiamo avanti poi dal telefono Android e inseriamo successivamente questo numero che ci viene fornito. Inseriamo il numero per entrare nel dispositivo. e aspettiamo qualche secondo per la comunicazione dei due dispositivi. In questo momento si sta connettendo il telefono Android direttamente al telefono iPhone. Vedete, sta iniziando il procedimento di migrazione dei dati e possiamo vedere tutti i dati che si possono migrare dal telefono Android al telefono iPhone. E' un sistema molto semplice. Vedete, adesso il dispositivo iPhone è entrato direttamente nel mio telefono Android. Possiamo trasportare, quindi migrare tutti i dati dell'account Google, messaggi, contatti, tutto quello che c'è all'interno del telefono. Ovviamente io non ho molti dati in questo telefono. Una volta fatto, andiamo avanti e attendiamo il trasferimento che avviene. E' abbastanza veloce. Poi ovviamente il trasferimento va in base anche a quanti dati avete nel vostro telefono. E una volta che i dati sono stati trasferiti, possiamo iniziare e concludere la configurazione del nostro iPhone. Bene, il completamento dei dati da un telefono all'altro è concluso. Mettiamo fine sul dispositivo Android. E dal telefono iPhone vediamo che la migrazione dei dati è quasi completata. Bene, finalmente abbiamo concluso con la migrazione dei dati dal telefono Android al telefono iPhone. Vediamo un pochettino. Ok, i contatti sono stati tutti trasferiti, incluse le immagini, ovviamente tutti i dati che c'erano nel mio telefono. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero che questo video vi sia stato utile se dovete passare da Android al iPhone. Vi ricordo la pagina Facebook, iscrivetevi al mio canale di Tenore Informatico e attivate le notifiche per non perdere i miei contenuti video. Noi ci rivediamo al prossimo tutorial da Tenore Informatico. Alla prossima, ciao a tutti!